Musica Un omaggio speciale a tutti coloro che hanno combattuto in prima linea l'emergenza coronavirus. Eroi moderni, reduci da mesi, difficili e impegnativi. Le note di Heroes di David Bowie hanno risuonato davanti all'ospedale San Paolo di Bari, in occasione della Festa della Musica, che quest'anno non ha confini. L'evento è stato organizzato dal Ministero dei Beni Culturali, coordinato dall'Associazione Italiana Promozione Festa della Musica, con il coinvolgimento del Ministero della Salute. La Regione Puglia ha aderito all'iniziativa e ha partecipato direttamente attraverso un evento locale organizzato dall'ASL di Bari, una band inedita composta da diversi esponenti della Task Force regionale. Antonio Sanguedolce, direttore generale dell'ASL di Bari alla chitarra, l'epidemiologo Pierluigi Lopalco al mandolino elettrico, Danny Sivo, medico del lavoro, voce, chitarra e rianimatore Felice Spaccavento alle tastiere. Un momento, non è una giornata, è un momento di leggerezza. Ecco, un momento di leggerezza che abbiamo voluto prenderci, anche per cercare di sottolineare che è successo qualcosa di importante. Siamo usciti da una prima fase di qualcosa di davvero pesante e siamo qui per testimoniare la nostra fratellanza, la nostra vicinanza a tutti i colleghi. Questi colleghi che in questi mesi si sono spesi senza riserve. Davvero hanno lavorato in maniera come davvero nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Sì, questa è una giornata che ha un grosso significato. Noi abbiamo aderito a questa iniziativa nazionale della festa della musica dedicata agli operatori sanitari. In questo caso hanno chiesto anche agli operatori di suonare, quindi c'è questa novità. Noi abbiamo aderito subito, anche perché siamo alcuni non appassionati di musica, però lo scopo principale è quello di rendere omaggio a tutto il lavoro che si è fatto in tutta Italia, in Puglia in particolare. Quindi è una giornata importante, soprattutto per ringraziare tutti gli operatori sanitari, tutti quanti si sono dati da fare in questi mesi, in questi due o tre mesi che sono stati veramente impegnativi. Grazie a tutti.